Dato che le più grandi economie del mondo saranno sedute attorno allo stesso tavolo, quello sarà il luogo ideale per discutere di come si possa garantire una ripresa economica robusta. Discuteremo anche delle catene di approvvigionamento nell'economia globale, delle difficoltà che hanno avuto a stare al passo con un incremento esponenzale della domanda. Inoltre parleremo anche dei prezzi dell'energia che sono aumentati notevolmente, se questo aumento dovesse perdurare anche in futuro questo potrebbe rappresentare un ostacolo per la ripresa globale. Dovremmo quindi discutere delle misure da adottare. Poi il G20 chiaramente sarà anche luogo ideale per discutere della tassa minima globale. Stiamo cercando di riparare le nostre economie, stiamo cercando di investire maggiormente nella ripresa e dovremo pertanto fare anche attenzione all'equità. Ora, l'accordo fiscale globale che abbiamo trovato fa proprio quello. Il G20 dovrà trovare un accordo su una riforma fiscale globale. Sarà un evento storico, poi bisognerà chiaramente passare all'attuazione. Noi siamo pronti ad attuarlo rapidamente dal canto europeo. Abbiamo già fatto una proposta per l'attuazione di un'efficace aliquota fiscale minima entro la fine di quest'anno. Ci aspettiamo che il sistema possa essere attuato a livello globale entro il 2022.